La birra di oggi è una boc, o per essere precisi, è uno stile ibrido, ossia una triple boc di Mikeller. Vediamo quindi la scheda prima di parlare di questa birra un po' particolare, appunto come preannunzione. Ho pronunciato Mikeller, è il birrificio, siamo in Danimarca. Il nome di questa birra è Frelser, spero di pronunciarlo correttamente. Lo stile? Allora, su questa scheda ho indicato come stile Doppelbock, categoria 9A, se volete il riferimento BJCP. In realtà sulla birra lo stile indicato è una Triple Bock Oli Ale, e poi vedremo di capire esattamente cosa significa. Grado alcolico, infatti 11 gradi, formato 75 centilitri, bottiglia acquistata su un birra shop online a 12,90 euro, bicchiere suggerito. Non sapendo bene lo stile sono andato sul sicuro, e sì, si tratta di un primo assaggio. Per quanto riguarda la storia di Mikeller, birrificio ormai molto famoso, nato in Danimarca, inizialmente come birrificio con impianto proprio, oggi è già anche diversi locali, sia in Europa sia in America. Vi rimando a qualche video precedente, in particolare trovate una degustazione su questo canale della Vanilla Shake, una serie molto interessante di pastry stout di Mikeller, appunto. Lo stile, infatti, dichiarato è quello di una Triple Bock Oli Ale, termine che appunto mette insieme due parole legate a due stili completamente differenti, quello delle Triple, associato tipicamente alla cultura brassicola belga e quella dei monaci trappisti, quindi birra ad alta fermentazione, e Bock, appunto che associamo subito alla Germania e alle basse fermentazioni. Il grado alcolico, appunto, è più vicino a quello di una Triple, 11 gradi, supera anche il range indicato per le Doppel Bock, che sono appunto Bock un po' più forti, sia come grado alcolico, sia appunto come corpo, più robuste rispetto alle Bock, ma la parola Ale, in Oli Ale, appunto, ci fa pensare a un'alta fermentazione, quindi è un po' una via di mezzo. Questa cosa ci dà lo spunto per riflettere, secondo me, su una cosa interessante, che è tutta la questione legata agli stili, di come a volte, appunto, noi magari ci facciamo certe paranoie per andare a indicare o a incaselare perfettamente una birra, ma lo stile non è vincolante, lo stile dichiarato, ma sta appunto al nostro birraio scegliere come incontrare questa birra in base a quello che ha in mente. Gli stili che noi solitamente utilizziamo sono quasi tutti stili che fanno riferimento al BJCP, al Beer Judge Certification Program, che usiamo, io personalmente ritengo molto interessante e utilizzo quello tipicamente per questi video, perché è molto preciso e ha delle linee guida solitamente abbastanza precise, ma nulla ci vieta di utilizzare altri sistemi di riferimento, come potrebbe essere quello dell'associazione americana Brewer Association, oppure lo stesso, sempre in Inghilterra c'è il CAMRA, la campagna per le Real Ale, quindi, ma potremmo anche utilizzare, per esempio, che so, mi viene in mente, l'elenco degli stili individuati da Union Birrai per le competizioni come birra dell'anno. Insomma, non c'è un vincolo a una legge, a parte ovviamente gli unici due stili che hanno un disciplinare legale, che sono ovviamente Lambic e Colch, che devono essere prodotti in un certo luogo e in un certo modo. Al di fuori di quell'area e non seguendo quella procedura, quel metodo, non può essere utilizzata la dicitura Lambic oppure Colch, in base appunto a che stiamo parlando delle spontanee in Belgio o dello stile tradizionale del nord della Germania. Ma quindi questa birra sarà un'alta o una bassa fermentazione? Non viene riportato il lievito utilizzato? Non vengono riportati nemmeno i malti utilizzati? Un suggerimento ce lo dà il sito internet di Micheller, dove fa un po' la storia di questa birra. Infatti la parola Frelser significa in danese Salvatore. Infatti googolando la parola saltano fuori un sacco di risultati di chiese in Danimarca che hanno appunto la parola Salvatore, un nostro Salvatore nel nome. Infatti la parola è stata scelta da Micheller perché questa birra, riporto la descrizione dal loro sito internet, vuole essere un tributo alla madre di tutte le buocche, ossia la Salvatore. La Salvatore è una birra di Paulaner, ne ho parlato abbastanza approfonditamente soprattutto della storia delle buocche e di come Paulaner sia stato il primo birrificio in Germania a dare vita a questo stile. Pochi video fa nel video sulla billigot di The Wall, quindi vi lascio qui il collegamento. Si parla delle buocche, di come sono nate, della storia che c'è dietro che è abbastanza simpatica di queste birre, del perché molte hanno la desinenza in Hathor, la Salvatore, la Celebrator, eccetera, eccetera. Si parla anche della ricorrenza, della simbologia della capra, del caprone, o comunque di diversi ungolati in queste birre, insomma andate a guardarvi quel video. L'ultima cosa, prima di aprire questa bottiglia, direi di spendere due parole sulla grafica e sull'estetica. Tutte le bottiglie di Micheler sono sempre diverse per quanto riguarda la forma, le dimensioni delle etichette, i colori e il design dei tappi. In questo caso il tappo è un tappo color ottone, non c'è riporto nulla se non la data di scadenza. È una doppia etichetta, più grande frontalmente e un po' più piccola sul retro. Sul retro ci sono le informazioni classiche con gli ingredienti e è riportato anche il luogo di produzione che in questo caso è ancora il birrificio de Proff in Belgio, quindi non è ancora stata brassata, o meglio, vengono brassate attualmente sì in Derimarca, ma ancora certe cotte vengono commissionate, diciamo, all'esterno della sede del birrificio, del luogo di produzione danese di Micheler. Spesso in Belgio, perché lì è iniziato come birrfirma appunto a farsi brassare le birre a Micheler o anche, a volte, anche negli Stati Uniti. L'etichetta frontale riporta questa grafica. Il disegnatore di tutte le etichette di Micheler, sebbene sempre diverse tra loro, ha uno stile molto simile. Infatti il disegnatore è tale Kate Shore. C'è una sua intervista, sempre sul sito di Micheler, che è molto molto completo per quanto riguarda queste curiosità, se vi dovesse interessare. Dice appunto a Kate Shore in questo breve articolo, in questa intervista, che il design che ha immaginato per le birre dovrebbe essere, secondo il suo punto di vista, Gipsy, utilizza proprio questo aggettivo, che è ciò che Micheler aveva chiesto appunto, perché questa era la sua idea delle sue birre. Un piccolo dettaglio, qui sul lato, la scritta Micheler e la scritta Frelser, che è il nome della birra, si incrociano appunto a formare una specie di crocifisso e infatti richiama un po' la questione del Triple Boc Oli Ale e anche il disegno potrebbe ricordare una persona che riceve una sorta di sacramento da non si sa bene quale autorità religiosa, di cui si vede solo la mano e il vestito di questa autorità religiosa è zebrato in perfetto stile Micheler. Ok, possiamo passare quindi all'apertura della birra. Come al solito la birra è una bottiglia molto grande, quindi se volessimo versarla senza sollevare il lievito che c'è sul fondo dovremmo in teoria in un solo colpo riempire tutti i bicchieri che abbiamo intenzione appunto di servire. In questo caso verserò una parte finché riesco all'interno di questo bicchiere e poi il resto verrà consumato con il lievito. Non è fondamentale separare sempre il lievito dalla bottiglia, però se si tratta di un'analisi e vogliamo farla in maniera un po' più oggettiva secondo me è bene lasciare il lievito sul fondo soprattutto per valutare sia la limpidezza sia alcuni anche flavor che potrebbe dare in alcuni casi il lievito. Per quanto riguarda l'analisi visiva di questa birra, allora una schiuma abbastanza irregolare di color direi marroncino molto molto chiaro con una grana appunto irregolare e abbastanza grossolana e non eccessivamente persistente perché si è già smontata in pochi secondi dopo averla versata. Per quanto riguarda il colore della birra, beh è un colore, allora, innanzitutto molto limpida perché puntandola contro la luce si vede che è perfettamente limpida. Quando è un colore molto scuro, è direi un colore ebano probabilmente, comunque marrone molto scuro con dei riflessi però color rubino in controluce. Passiamo quindi al naso. Allora, al naso ci sono diverse cose, sicuramente alla prima annusata ci ricorda ovviamente molto di più le Doppelbock che le Triple. Anzi, c'è tutto ciò che ci aspettiamo in una Doppelbock, quindi caramello innanzitutto, i malti ovviamente protagonisti, ma c'è anche un po' di tostato, è qualcosa che, quel tipo di tostato tipico per esempio, anche di alcune porter e di alcune stout. La parte, l'unica cosa che mi viene in mente che possa legarsi al naso, alle Triple, è un leggero sentore dei cosiddetti esteri fruttati tipici delle birre e dei lieviti del Belgio. C'è anche una parte di alcolica che già si sente al naso, molto leggera, però questa parte fruttata con l'alcol ricorda è una cosa tipica di certe birre, di un certo tasso alcolico, che sono la frutta sotto spirito, in particolare mi vengono in mente proprio le ciliegie, o comunque frutta rossa sotto spirito. Passiamo alla bocca. Se non fosse per l'alcol sarebbe una discreta o comunque buona Doppelbock. Corpo medio, bassissima frizzantezza, quasi nulla, e tipicamente dolcezza dall'inizio alla fine, solo dopo l'ultimo sorso, dopo un pochino, arriva un pochino di amaro, amaro erbaccio direi, dato dal luppolo, ma molto molto leggero. E' dolce dall'inizio alla fine questa birra e appunto se non fosse per il grado alcolico che si percepisce molto bene anche in bocca, potrebbe ricordare una buona Doppelbock. Quindi riassumendo, gusto, dolce sicuramente su tutto il resto, secondariamente amaro, ma proprio molto leggero e solo dopo il sorso, per il resto salato zero, acido zero. Per quanto riguarda retrogusto e retrolfatto, appunto ritorna solo questo po' di malto molto dolce, caramello cioccolato, ma tendenzialmente più sul caramello, manca in bocca così importante la parte di tostato che invece c'era abbastanza bene evidente al naso, e appunto un pochino di amaro, ma solo molto leggero e solo dopo aver mandato giù il sorso. Che dire, interessante sicuramente questo esperimento, una Doppelbock decisamente alcolica per gli standard a cui siamo abituati. Insomma, conosciamo il modo di lavorare di Mikeller, sappiamo che tendenzialmente le birre sono tutte molto buone, o comunque sono molto interessanti, se non vogliamo dire buone, diciamo comunque interessanti, e questa sicuramente è buona ed è interessante. Forse l'unico punto che mi aspettavo per un grado alcolico così alto, un maggiore corpo, cosa che invece non c'è. Questa era quindi la Frailser di Mikeller Skoll. Grazie. 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 Grazie.